Tavolo in regione sul caporalato, fenomeno diffuso non solo in agricoltura ma anche nei settori dell'edilizia e del tessile. Circa 12.000 i lavoratori irregolari in Campania. Il servizio di Andrea Caruso. Non è solo nei campi che il caporalato spreme le vite dei lavoratori. In Campania i riflettori vanno puntati anche su edilizia e tessile. Alla prima riunione del tavolo regionale per il contrasto del caporalato, la FLAI CGL abbozza una stima. Sarebbero intorno ai 12.000 i lavoratori irregolari in regione. A Palazzo Santa Lucia è il primo di sei incontri tra pubblica amministrazione, prefetti, organizzazioni sindacali e di categoria per condividere buone pratiche e segnalare le palle del sistema. Con gli 8 milioni di euro del progetto Supreme, la regione Campania sta assistendo a una platea di oltre 7.000 stranieri tra il litorale Domizio e la Piana del Sele. Una serie di interventi finanziati anche dal Ministero del Lavoro sui temi dell'inclusione, qual è l'abitare, la salute, la formazione. Procede poi con estrema lentezza anche l'esame delle pratiche, oltre 200.000 in Italia, per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri, una sanatoria voluta lo scorso anno dalla Ministra Bellanova. A Napoli istruttoria completata solo per un quarto delle 19.600 domande presentate e a fine mese scadrà il contratto dei lavoratori assunti con questo preciso compito. Stiamo anche aspettando di vedere se il personale interinale che è stato prorogato fino al 31.12 in qualche modo verrà ulteriormente preregato perché è sicuramente estremamente utile. Meglio fa Caserta che ha esaminato circa metà delle richieste. Dopo Roma, Milano e Napoli, terra di lavoro e la quarta provincia italiana per numero di domande di emersione presentate.